Ansel Grün ci propone ancora un testo di profonda spiritualità, Radici. Il monaco tedesco benedettino, ormai molto conosciuto anche da noi, con questo nuovo testo Radici si interroga e ci interroga sul senso della nostra identità, ovvero capire la domanda esistenziale che ci accompagna per l'intera nostra esistenza chi siamo, da dove veniamo e da dove veniamo sono le nostre radici. Se noi, dice il nostro amico Grün, ormai davvero un caro amico presente sempre più spesso nelle nostre librerie, se noi non cogliamo l'essenza stessa delle radici, delle nostre radici, non possiamo realmente conoscere e affrontare il tema della nostra identità. Noi non siamo una monade a sé stante, non siamo una monade sparsa nell'universo, noi siamo un anello, l'ultimo anello di una catena che ci precede, così come siamo un anello della catena che ci seguirà. E capire questo, capire il senso forte, intrinseco delle nostre radici, significa davvero sentirsi parte di una storia infinita, di una storia che affonda in un passato profondo. E non è facile, non è facile fare questo percorso di consapevolezza, perché ci possono assalire molti dubbi, molte risposte rimaste insolute sulla nostra esistenza, sul nostro passato, sulla nostra famiglia e via 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 addietro. fino ad arrivare anche alle domande ancora più profonde sul senso della propria religiosità e quindi le radici in questo caso anche bibliche, sul nostro stare con gli altri, le radici relazionali ed altro. Tante sono le così possibili letture del concetto di radici. Però se noi riusciamo, ci suggerisce Hansel Grün, se noi riusciamo ad approfondire questo tema, davvero riusciremo a cogliere a pieno la nostra identità e la nostra consapevolezza di essere persone. Quindi di Hansel Grün, radici.